Prevenire comportamenti antisociali o a rischio come l'abbandono scolastico e favorire l'inclusione sociale di studenti provenienti da famiglie con testi svantaggiati. Questo l'obiettivo del progetto Mind Management Training cofinanziato dal Dipartimento Gioventù e Servizio Civile della Presidenza del Consiglio e messo in atto dalla Scuola Campana di Neuropsicologia. I risultati del progetto che ha interessato 69 adolescenti della scuola secondaria segnalati dagli insegnanti per ridotta frequenza scolastica o cattiva condotta sono stati presentati nel corso del convegno dal titolo devianza adolescenziale e funzioni cognitive. La devianza adolescenziale così come l'abbandono scolastico purtroppo i dati ci dicono che sono in aumento. Per quanto concerne i reati dei minori abbiamo un aumento dei reati violenti quindi dei reati contro la persona quindi è in crescita anche ed in evoluzione purtroppo la tipologia di comportamento di condotta deviante che i minori mettono in atto. Così come l'abbandono scolastico purtroppo si stanno registrando sempre più casi ed è uno degli indici prognostici di quello che poi porta allo sviluppo dei comportamenti antisociali. Noi ci siamo focalizzati su un aspetto che a nostro avviso incide sulla scelta di certi comportamenti devianti e l'aspetto cognitivo. In particolare ci siamo concentrati su quelle che sono delle funzioni cognitive di gestione del sistema mentale che sono le cosiddette funzioni esecutive che comprendono la pianificazione, la capacità di gestire l'attenzione, la capacità di resistere a cattive abitudini e così via perché è vero che i comportamenti devianti hanno diverse cause, diverse determinanti però il mezzo attraverso cui si prendono anche delle decisioni comportamentali e anche il sistema cognitivo. Quindi noi abbiamo siamo intervenuti con degli esercizi da laboratorio ma abbiamo anche messo su una serie di interventi sul corpo scolastico e sulle famiglie, sui genitori, quindi di bar and teacher training.